allora mentre aspetto che arrivi la batteria di ricambio volevo fare un'altra operazione queste macchinette qua questa qui in particolare hanno al posto dei rulli non è che in realtà ci siano dei veri rulli ci sono dei nastri che simulano il funzionamento dei rulli e questi nastri qua ruotano intorno a delle delle puleggie dei pernetti con delle con delle rondelle insomma no come esattamente come l'altra slot che ho la primavera siccome sulla primavera data l'età della macchinetta quando giravano questi nastri cigolavano io li ho aperti ho messo dell'olio questo qui l'olio quello per l'olio al teflon per le parti in plastica ho messo dell'olio e ho avuto un risultato fantastico perché ha smesso completamente di cigolare adesso volevo fare la stessa cosa qui e adesso devo capire un attimo come si fa ad aprire e arrivare ai nastri allora io ho visto che qui c'è un dadino a mano che si svita e c'è questa levetta che si tira su e permette di accedere dietro la parte meccanica adesso bisogna trovare il modo di fare star su questo questa levetta in modo che sia su da sola per lavorare ecco allora ho creato questo semplice cavetto con due ganci adesso vi faccio vedere come lo metto su ecco adesso con il cavetto la macchina sta su da sola io non ho fatto nient'altro che agganciare il cavetto qui e poi andare dietro spero che si veda e agganciarlo alla parte dietro quindi praticamente è agganciato qui davanti che tiene su e tiene qua sotto quindi sta dalla parte dietro quindi ho trovato questo modo di farlo star su da solo adesso vediamo un attimino di capire se si riesce ad arrivare alle parte meccaniche che intendo io ok vedo che qui su ogni ognuno dei tre dei tre nastri qua c'è questa levetta qua in plastica ce n'è una di sopra e una di sotto molto probabilmente tirandole contemporaneamente dovrebbe venire via adesso provo a farlo ok il nastro è venuto via semplicemente muovendo quelle due clip se lo fate mi raccomando fate molta molta delicatezza perché sono parte in plastica se le rompete sono guai adesso qui il nastro è tutto sigillato per carità ci sono dei fori dove si intravedono ingranaggi ma il punto dove voglio mettere io l'olio è proprio sui perni che fanno trito e quindi da qua non c'è accesso vedo che qui davanti ci sono delle viti ci sono quattro viti provo a vedere se togliendo questa maschera arrivo ai perni e se non ci arrivo non vado più avanti di così perché non vorrei non vorrei rischiare di danneggiare il rullo per una operazione che poi magari non è strettamente necessaria se ci riesco bene se no niente adesso proviamo ecco qua che abbiamo tolto la maschera adesso si riescono a vedere i perni lì esattamente lì dove voglio mettere l'olio dove esattamente dove i perni vanno a fare attrito adesso lo metterò un po lì ho dovuto scollegare due cavetti un attimo che sono il nostro ma ecco dovuto scollegare questi due morsetti che erano collegati qua sopra perché sennò il filo non arrivava abbastanza a lungo per arrivare qui al per appoggiare il rullo sul sul tavolo adesso metto l'olio ok ho messo l'olio e in effetti la differenza l'ho messo qui dentro nei pernetti prima ho messo l'olio nel perno dopo l'ho portato l'ho macchinato così in modo che andasse giù l'olio e dopo di che questa questa rotella qua l'ho fatta girare con le mani in modo che gira il nastro si sente proprio il nastro gira in modo proprio morbido si sente proprio fluido che gira e proprio ad avere la sensibilità si sente proprio che gira bene adesso lo faccio con tutti gli altri tre con tutti gli altri tre nastri ovviamente non faccio il video perché sarebbe tutto uguale sarebbe un video inutilmente lungo ecco quello che consiglio di fare adesso l'ho chiuso è la prima cosa anzitutto di farlo un rullo alla volta non smontate di tutti e tre ma fateli uno alla volta perché si può fare così avete meno pezzi in giro non c'è rischio che vi sbagliate un rullo al posto dell'altro e soprattutto queste viti qui che vanno sulla plastica mi raccomando quando le avvitate appena arrivano a fine corsa fermarsi subito perché sennò la plastica si rompe e tanto queste non sono viti che devono ottenere del peso sono viti che devono tenere su un coperchietto di plastica e basta quindi appena si arriva a fine corsa fermarsi il primo è fatto andiamo a fare il secondo e anche il secondo nastro è andato quello che mi sono dimenticato di dire prima è che quando rimuovete questi nastri avete la possibilità di accedere al vetro e del pulirlo da dietro io semplicemente ho messo dell'alcol questo è alcol normalissimo messo dentro un flacone uso dello scottex spruzzo spruzzo l'alcol sul vetro e lo pulisco con lo scottex e poi chiudo tutto un attimo fa io avevo consigliato di farli uno alla volta ma in effetti per avere pieno accesso qui al vetro è meglio tirarli fuori tutti e tre insieme l'importante è che li mettete in ordine nel mano a mano che li fate in modo che vi ricordate la posizione perché se sbagliate la posizione dopo non i rulli non si configurano nel modo giusto qui comunque c'è scritto qui avevano scritto già il numero sopra perché evidentemente erano già stati smontati in passato e quindi non c'è problema insomma adesso finisco il terzo rullo e poi da una pulita al vetro ecco qua anche il terzo rullo è fatto adesso semplicemente diamo una spruzzatina d'alcol al vetro e diamo una pulitina con scottex in modo da pulirlo bene da dentro questo in realtà era già ben pulito perché sembra che non sia entrato a pulire mai qui dentro adesso rimettiamo sui rulli e 3 e quindi adesso i rulli sono lubrificati e il vetro interno è pulito ok ho rimesso il dado a mano al suo posto e adesso la scheda è di nuovo chiusa come prima